Ciao, sono Raffaella Moniotto, sono un'artigiana e come formazione sono una ceramista. Mi occupo di artigianato da una ventina d'anni, in pratica, e lavorando come artigiana ho sviluppato tutta una serie di tecniche che utilizza normalmente nel mio lavoro quotidiano e che variano moltissimo a seconda di quello che devo organizzare come lavoro. Dipingo su legno e su tela fondamentalmente, però appunto sono passata attraverso la ceramica, composizione di fiori, diciamo che tutto quello che è manuale fondamentalmente mi interessa, quindi è un campo abbastanza ampio da cui si può spaziare tranquillamente da una tecnica all'altra, avendo la possibilità di avere un laboratorio ovviamente più facile, più semplice. perché faccio l'artigiana è una bella domanda a cui è difficile dare una risposta fondamentalmente, perché io credo che bisogna secondare il proprio essere in quello che si fa e quindi io faccio l'artigiana perché fondamentalmente non riuscirei a fare altro, sono proprio una persona che ama la materia, quindi tutto quello che è fatto con le mani fondamentalmente mi interessa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.